La storia di Zwilling J.A. Ankels ha inizio nel 1731 nel distretto di Zollingen, Germania centro-occidentale, rinomato per la qualità dell'acciaio e per la produzione dei coltelli. Nel corso degli anni Zwilling ha saputo coniugare la tradizione con le più avanzate e sofisticate tecnologie produttive. Per ottenere un coltello Zwilling sono necessarie 40 distinte fasi di lavorazione. Il coltello viene prodotto da un unico pezzo di acciaio. L'acciaio acquisisce le caratteristiche volute grazie ad una tempra particolare, che prevede in successione riscaldamento ad una temperatura superiore ai 1000 gradi, quindi il rapido raffreddamento a meno 70 gradi ed infine l'affinazione ad oltre 250 gradi. Questo procedimento è denominato Friodur. Così si ottiene un coltello che soddisfa gli elevati standard qualitativi imposti da Zwilling. I manici in polipropilene vengono riscaldati ed applicati con un collante speciale al codolo del coltello. Solo a questo punto si passa all'affilatura, che viene controllata al laser per verificare anche se è stato mantenuto il corretto angolo di affilatura. L'ultimo passaggio di affilatura e finitura spetta agli specialisti, che controllano qualità e conformità dal prodotto, agli elevati standard qualitativi imposti da Zwilling J.A. Ankels. La confortevole impugnatura ergonomica ed il perfetto bilanciamento del coltello ne consentono un uso sicuro che non affatica la mano.